Marco Iacobacci, primo classificato della 10 km di fondo ad Augusta, un'emozione, è caldo? Sì, è stata una grande fatica, però arrivato qua con tutta la gente che ti guarda, che ti applaudisce, tutta la fatica scompare. Allora riprendi le tue forze e dici ce l'ho finito, è stata veramente dura. Ma come ti senti fisicamente dopo aver fatto 10 km a nuoto? Sì, come all'inizio sembri che vai, che stai benissimo, al ritorno senti tutta la stanchezza di prima che non sentivi e quindi ti fermi praticamente, solo con una forza interiore diciamo, fisicamente ormai poi prendi il ritmo, ma solo con una forza interiore per riuscire a finirla. Grazie Marco, complimenti. Grazie.